E' un'altra cosa. Troveremo qualcosa da farti fare, ne sono sicuro. Qualche idea? Ragazzi? Beh, ecco, ci serve qualcuno che porti a passeggio i cloni. Finchel, ci serviranno dei cani in previsione dell'attacco, non questi pastori tedeschi. E' solo che non voglio un cadavere dentro casa mia. A te piacerebbe? Da impazzire! A te piacerebbe?